cari amici ascoltatori buongiorno a tutti deciso di fare questo video perché sempre più spesso si parla dell'importanza certamente reale della tecnica per quanto riguarda la nostra vita quotidiana la tecnica in effetti ci può essere molto d'aiuto per quanto riguarda tutto ciò che dobbiamo fare dobbiamo svolgere e spesso ci agevola anche proprio nelle nostre attività pratiche purtuttavia è sempre bene ricordare che dietro la tecnica ci deve essere sempre la presenza dell'uomo e questo risulta essere effettivamente talvolta un problema perché la fiducia smisurata nella tecnica potrebbe teoricamente dico portare ad affidarsi davvero troppo eccessivamente ad avere una fiducia solamente nella pura tecnica dimenticando quella che invece è l'importanza che c'è da parte dell'uomo che deve controllare questa tecnica sembra una banalità ma non mi pare affatto che lo sia perché purtroppo questa questo discorso si propone con sempre maggiore ci interpelle insomma con sempre maggiori interrogativi ovvero fatto che sia davvero sempre l'uomo a saper controllare la tecnica e non già che la tecnica acquisisca per così dire quasi una propria autonomia a sé stante cioè una sorta di auto riproduzione tecnologica allora è essenziale quindi che non si perda l'umanità che c'è dietro ad ogni progresso tecnico ed è necessario insomma che ci sia sempre una quale forma di controllo da parte dell'uomo per quanto riguarda tutto quello che riguarda la tecnica che può essere davvero un grosso vantaggio ma solo a determinate condizioni e cioè che ci sia sempre una prevalenza del controllo dell'uomo e dell'uomo semmai sulla tecnica stessa e non già come qualcuno ha già ipotizzato che possa esserci un'ipotetica eventuale supremazia da parte della scienza e dalla tecnica della tecnologia nei riguardi dell'uomo diversi intellettuali hanno posto alcuni interrogativi no di fronte alla problematicità che potrebbe creare una tecnica una tecnologia che cresce selvaggiamente e invece è importante che la tecnologia cresca a misura di uomo che ci sia sempre l'uomo dietro la tecnica un uomo che sia soprattutto autenticamente umano e autenticamente morale ricordo questo proposito che già heidegger il grande filosofo tedesco abbiamo più volte citato in precedenti video diceva la tecnica nella sua essenza è qualcosa che l'uomo di per sé non è in grado di dominare quindi metteva già in luce il fatto che se la tecnica avanza troppo velocemente e ad essa si dà come dire troppo spazio in una sorta di autonomia e di auto autogestione ma anche proprio di autoregolamentazione e di auto riproduzione c'è il rischio grosso che questa tecnica possa sormontarci abbiamo visto alcuni film di fantascienza che ci parlavano in questi termini la fantascienza talvolta diventa scienza come abbiamo potuto vedere per quanto riguarda scoperte come il cellulare o il computer stesso e allora non sia mai che il computer possa un giorno ricrearsi come essenza come essere che possano in qualche modo contrapporsi all'uomo e addirittura dominare e dominarlo perché abbiamo anche l'esempio di alcuni filmati già sullo stesso youtube che vanno un po in questo senso oltretutto abbiamo anche una certa qual titubanza se non invito alla moderazione quindi la tecnica si la tecnologia si la scienza si ma sempre con moderazione sempre con l'uomo che deve dominarla quindi una certa qual titubanza circa un eccessiva un eccessivo sviluppo sviscerato e totalizzante da parte della tecnica dicevo l'abbiamo già da parte di alcuni intellettuali che dicono che anche un certo uso maldestro che se ne può fare potrebbe portarci e comportare anche alcuni problemi poi di non facile soluzione in altre parole anche il fatto che tramite la tecnica davvero quello che era prima un fatto di cultura adesso può essere maneggiato e divulgato da chiunque mentre invece prima si dava spazio culturalmente parlando alla persona che davvero poteva dire qualcosa di significativo e di arricchente qualcuno ha anche detto che adesso le classiche chiacchiere da bar che venivano fatte una volta almeno un tempo venivano circoscritte all'ambiente del bar adesso invece vengono esplicitate in un ambiente macro qual è quello appunto dei social o di internet stesso e quindi alcuni dicono ad un'affermazione saggia intelligente fa da contraltare un'affermazione priva di qualunque significato e questo non va certamente bene e tutte e due però sembrano avere a questo punto la stessa visibilità e la stessa importanza spero di aver esplicitato al meglio il mio pensiero sull'importanza dell'utilizzo della tecnica in un certo modo per il momento è tutto vi ringrazio buona serata a tutti ad una prossima puntata grazie arrivederci grazie Grazie.